Allora raga Non so se si sente la musica Penso di sigmo O se si sente male o se si sente doppia Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua Per l'ennesima live Come state ragazzi? Scrivetemi in chat se mi volete bene Oppure scrivetemi anche se non mi volete bene Magari siete tra quei quattro Magari siete tra quei quattro pirla Che bello insultarvi Che hanno messo dislike al mio video unboxing di Spasmo Video Super bene ti vogliamo, grazie Oh grande Thomas Quei quattro sfigati che hanno messo dislike al mio video Sull'unboxing della Spasmo Video Ce l'avete con me o ce l'avete con la Spasmo Video? Può darsi perché ognuno nella vita si fa i suoi nemici Eh sì, qua solo canzoni volgari Gli amici mani pulite Ormai sono un sottofondo ricorrente nelle live di Non Aprite Questo Blog Chiamate i vostri amici ragazzi Condividete questa live Perché Ci siamo rotti il cazzo Grande Dania e Ronfist Saranno i congiuriani Ma sicuro sono i congiuriani Congiuriani Stammi lontano Condividete la live con i vostri amici Chiamate vostra sorella Chiamate vostro fratello Chiamate vostra nonna Tutti i fan dell'horror I Razzistello Allora oggi si parla Di Principalmente dei bambini di Cold Rock Si parla dei bambini di Cold Rock Poveri bambini ragazzi Poveri 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 bambini Che Insomma chi non ha visto il film Si tappi le orecchie Comunque non inizio già con gli spoiler Quindi state tranquilli Oh i bambini di Cold Rock Parliamone dai ragazzi Parliamone dai Non facciamo i timidi I bambini Di Cold No ma io che mi posso preparare prima Ste robe No E' un film di Pascal Lager Cazzo Pascal Lager E' un regista che veramente Scatena delle divisioni Tra i fan dell'horror Incredibili Anche se poi in realtà E' un horror Più thriller Sono quasi sempre degli horror Più thriller I suoi Che horror Però Ci sono queste sfumature Di Diciamo Di soprannaturale Intesa Cioè come si dice Lasciato intendere Che poi magari non c'è Comunque su IMDB C'ha 5,9 Quindi ha malapena la sufficienza Anzi Secondo il vecchio sistema scolastico Neanche la sufficienza Vecchio perché comunque A quanto gira voce La scuola sta cambiando Non si daranno più i voti 5,6,7,8,9,10 Chi ha mai ricevuto un 10 Alzi la mano Io invece voglio dare un 10 A Thomas Dani E tutti gli altri due Che stanno guardando Questa live No scherzo La do a tutti quelli Che possono esserci O non esserci C'è tanta gente Che se le guarda Postume Le live Io adesso le pubblicherò Anche video Poi se le pubblicherò Anche su Facebook Su Instagram Su Warfront Tutti questi posti Qua di merda Che fanno parte Della grande Decolonizzazione Americana Che è avvenuta Dopo la vittoria Della prima Seconda guerra mondiale Quindi Ci dobbiamo cuccare Tutto di loro Hamburger Social network Film Bella fin con gli zombie Grande Grande Fin con gli zombie Tra l'altro Volevo scriverti L'altro giorno In privato E Cazzo Dove sei finito Cioè Nel senso Spero niente di grave Perché di solito Quando uno sparisce È successo qualcosa di brutto È un po' Che non ti vedo Non so se è l'algoritmo Che ci vuole Vuole Che non diventiamo amici Comunque È il terzo film Che vedo Di Pascal Quattro Martyrs È del 2008 I bambini di col rock È del 2012 E La casa delle bambole H Ghostland È del 2018 Questo signore Qua ragazzi Ha fatto quattro film In quindici anni Però Si continua a parlare di lui Insomma Sono stati giorni incasinati Infatti immaginavo E mi dispiace Ti faccio i miei migliori auguri E Pascal Cazzo Divide sempre Allora Intanto lui ha una grandissima Un grandissimo merito Una grandissima colpa In questa divisione Il grandissimo merito è Martyrs Ed è anche la sua grandissima colpa Cioè La grande colpa Di fare qualcosa Che lascia Una buona impressione Che fa una buona impressione Che lascia Un buon ricordo Alle persone Che seguono il cinema Allora E quindi che cosa accade Madonna Che è Sono Ma che cazzo è Le campanelle Qua ci sono i miei anelli Al che io non sopporto Ragazzi Non lo sopporto Ma Chi lo ha fatto Gli voglio bene lo stesso Non sopporto i commenti Ritriti Ritriti Dove si tira in ballo Sempre La solita vecchia storia Ma era meglio questo Era meglio quello Cioè Sono d'accordo anch'io Che È normale Fare dei paragoni Soprattutto se un regista Ci abitua A un buon livello Si va Un po' A scontrarsi Con delle aspettative Che si creano Anche involontariamente Io dico sempre Non create Aspettative inutili Tanto Abbasso un po' La encodatura Così si vede Eh niente Non si vede bene La felpa Anticongiuriana La alzo così Con Giuliani Is not my friend La trovate sul sito I love taboo Insieme al cappellino Che non è questo Però c'è la scritta Insieme alla maglietta Strepitosa Vediamo se riesco a farvi vedere Non riesco Perché non riesco Non sono un modello Cioè Sembro più Renato Pozzetto Più che un modello Comunque E quindi che cosa accade A questo film I bambini di Cold Rock Che viene messo Sul banco Degli imputanze Sulla bilancia Della giustizia Cos'è più bello Cos'è più brutto Cold Rock precipita Precipita Perché Martyrs è un film Perché piace Martyrs Adesso entriamo dentro Oggi parliamo Solo di Pascal Laje Anche se mi manca un film Perché piace Martyrs Perché Martyrs Parla di un argomento Lo fa molto bene Il film è diretto bene Non ci sono cose Che dici Attori che non sono capaci Che possono magari Un po' Rendere Abbassare il livello Secondo me Su questo film Ha cannato la protagonista Non dico che non si sia Impegnata Però un'altra Avrebbe fatto bene Poi veniamo anche su questo Perdonami se Non voglio perdere il mio filo Però è interessante Anche parlare di Quella gran Quel gran pezzo Di L'Ubalda Di Di Come si chiama Jessica Bill Jessica Bill Jessica Bill La rifattissima Possiamo dire La rifattissima Jessica Bill Che però Schifo non fa Comunque Anche tutta rifatta È come confrontare Due piatti diversi Sì Sì Oppure Oppure Io penso una cosa Facete una metafora Che ne so Calcistica Uno pensa Una grande partita Dalla sua squadra Del cuore Io posso citare Il ritorno O l'andata Di Di Barcellona Inter Quando abbiamo vinto La Champions Una partita Incredibile Dell'Inter Ecco Questo non vuol dire Che l'Inter Non abbia fatto Delle altre partite Molto belle Molto Anche incredibili In alcuni casi Che io possa Avere apprezzato Cioè Cosa Cosa significa Che se l'Inter Ha fatto quella grandissima partita Ha vinto quella Coppa importantissima Poi non devo più Godere Delle Prestazioni Calcistiche Perché non sono più Di un livello Come lo era Quelle di quella squadra No Lo stesso vale per i film Cioè Non è che se un regista Ha fatto un grandissimo film Se non mantiene Quel livello Allora Che merda Cioè Ragazzi Questo Questo giudicare in modo così Perentorio Le cose È molto dannoso Poi Veniamo Poi dopo Veniamo al fatto Che comunque I Bambini di Cold Rock Non è un film Riuscito al 100% Secondo me Secondo me È ovvio che secondo me Se no Non uscirebbe dalla mia bocca Non è riuscito al 100% Ma E c'è un grossissimo ma E c'è un grossissimo ma È un film Secondo me Tanto qua va la pubblicità di Spotify È un film che secondo me È girato Estremamente bene Quello che noi Sbagliamo Sui social Nel commentare Anche persone Del settore Quindi È una critica Che io rivolgo Anche a chi è esperto Perché a volte Le nostre abitudini Inficiano Le nostre conoscenze È la nostra professionalità Le inficiano Le abitudini È come l'abitudine A dire parolacce O l'abitudine a Che ne so Brutte abitudini La brutta abitudine Di essere così Perentori Così Giudicanti Con i film Ci impedisce di capire Di esporre le cose In modo giusto E di fare Dei discorsi costruttivi Perché secondo me Dire che il film È bellissimo È meraviglioso O dire che il film È bruttarello Terribile Orrendo E non c'erano vie di mezzo In tutti questi commenti Non ce n'era Uno Che fosse Un po' più Equilibrato Cioè Tra i miei contatti Ci sono Fan dell'horror Alle prime armi Fan dell'horror Soprattutto fan dell'horror Esperti O tra i contatti Più esperti di me C'ho Registi Registi Che si stanno affermando C'ho C'ho un po' di tutto Registi indipendenti Insomma Gente che Almeno una macchina Da presa In mano l'ha presa Quindi Non sto parlando Della feccia Quella feccia Che trovate Che trovate Su certi gruppi Facebook O in altre situazioni Cioè Sai proprio Quello che sbaglia I congiuntivi Che Nella descrizione Di Facebook Ha scritto Università della vita O peggio ancora Oxford Cioè C'è della gente Che ha Strappato la terza elementare Con i denti E nella Descrizione di Facebook Ha scritto Che ha studiato All'università Di Oxford Solo perché Facebook Ti dà la possibilità Di fare Di selezionarlo Cioè E quindi Non è Non sto parlando Di questa gente Sto parlando Di persone Un po' più Acculturate Nell'ambiente Del cinema Quindi cosa voglio dire Che La cattiva abitudine Di giudicare E non osservare Rende Rende sterile Definitivo È una cosa Che accade Spesso Ma anche Che una cosa Accade spesso È un giudizio Definitivo Insomma Mi sembra di capire Che accada Frequentemente E non ci si sofferma Mai sulle esperienze Positive che un film Ti può dare Anche se nel suo complesso Non ti è piaciuto Per esempio Io ho visto un film Appena uscito Dalla Appena uscito Con Digit Movies È un film horror Molto particolare Un horror western Di cui ieri sera All'una Ero ancora lì A scrivere la recensione E questo film Scrivetemi intanto qualcosa Ragazzi Capisco che Che la mia Cioè insomma Il mio discorso È talmente intrigante Che voi non vi distraete E questo mi fa piacere Però scrivetemi Perché almeno Mi perdo E mi dimentico Cosa voglio dire Questo film che io ho visto È un film che Io non saprei dirvi Se mi è piaciuto O non mi è piaciuto È molto difficile Proprio perché Io ragiono Con un meccanismo Per cui non voglio Classificare i film Come piaciuti Non piaciuti Brutti Belli Buttati dentro Diciamo scatole No Prendi come se fosse La spazzatura Che butti la plastica Da una parte E la carta dall'altra Quindi i bambini Di cold rock In realtà Ha delle componenti Molto fighe La parte iniziale Per esempio È diretta In maniera fenomenale Tutto il contesto In cui lei A un certo punto E scusate lo spoiler Ma è una delle cose Che accadono All'inizio Quindi Tappatevi le orecchie Se non avete visto I bambini I bambini di cold rock Se no Pure andatevene A fare in culo No vabbè Ma perché cazzo Non è colpa di nessuno Neanch'io l'avevo visto L'altro giorno Quindi Chiedo venia Per questa mia affermazione Aggressiva O passiva Allora Esatto Quello che Che dice Fin con gli zombie Parlo di Lutz Mi sono dimenticato Di dire Il film Di cui Dicevo Non so se mi è piaciuto O non mi è piaciuto E di cui sto scrivendo La recensione Fino a luna di notte Ieri sera E infatti Ci ho tenuto A sottolinearlo Per chi dice Ah ma a te Ti arrivano i film Gratis Che culo Ma tu a luna di notte Sei lì che O sei su Pornhub Oppure sei a dormire Quindi Fa il bravo Cioè Poi Io recensisco Mi arriva Cioè Mi costa meno Comprarmeli Lo faccio Perché mi fa piacere Che Non è un costo Per me Dover Comprare i film Ecco Questo sono Lo posso ammettere Con Tranquillamente Quello che dice Fin con gli zombie È Più o meno giusto Nel senso Non lo direi così Ma è più o meno Il concetto poi È esattamente quello che penso Cioè Quelli che dicono Che il film è una merda Mentre la verità Non è piaciuto A loro E basta O comunque C'è una grossa fetta Invece di gente A cui è piaciuto loro Prendono il gusto personale Con Il giudizio Alla fine Come se fosse un dato oggettivo No Allora io voglio Voglio riaprire la parentesi Il tema è questo Un conto E se un film Ti piace E un conto E se un film Dici che è brutto Perché se tu dici Che un film è brutto Lo stai giudicando E quindi Nel momento in cui Lo stai giudicando Diventi giudicabile anche tu Cioè Io ti posso dire Ok Tu dici che è brutto Perché Tu Non hai gli strumenti Per spiegarmi perché E quindi Ti metti lì Raffazzoni Una frase Sconclusionata Senza Aver studiato sceneggiatura Avere nessuna Velleità artistica Di scrittura Di Quindi Gran parte delle persone Sono così Gran parte E In quel momento Diventi giudicabile Quindi Allora le cose sono due O Sei così bravo Che la gente inizia a dire Però cavolo Quello ne capisce Di film E ti sa spiegare Perché una cosa Funziona Non funziona E allora Acquisisce una credibilità Che gli viene data Dagli altri Ok Non come succede ultimamente Che le persone Si mettono lì E dicono Io adesso vi do Gli awards Della mia pagina Ma chi cazzo sei? Cioè Ma chi cazzo sei? Cioè Per questo voglio ribadire Che gli awards I congiurian I congiurian awards È uno scherzo È una battuta Io non voglio attribuire premi Voglio L'unica cosa che ho fatto In passato E quando potrò Lo rifarò Perché per me Sono più consigli Che altro È dirvi quali sono Secondo me I film più belli E io Penso di poterlo fare Un po' di più Rispetto a La marvaglia Che c'è in giro Semplicemente Perché Alcune persone Mi hanno attribuito Questa capacità Che poi io sia Meno bravo di Sparate voi i nomi Non voglio citarli Quello youtuber Che è bravissimo Quell'altro Che Ha una parlantina Migliore della tua Quello che ha studiato Cinema Con Che ne so Va bene Siamo tutti giudicabili Io sono giudicabile Di castronerie Ne avrò dette anch'io E qualche Qualche persona Avrà detto Ma che cazzo stai dicendo Probabilmente E Va bene così E probabilmente In qualche caso Avrò anche sbagliato In qualche caso Mi sono reso anche Conto io Di aver Espresso male Un parere Che non volevo dire In quella maniera E quindi essere frainteso Oppure aver interpretato Male un film Sono tornato adesso Che Twitch Non mi andava Non ho sentito Se ti è piaciuto il film Thomas c'era Quindi ora te lo fai dire Da Thomas Ma se qualcuno vuole Riassumere Per favore per Sara Perché per me diventa Poi complicato I punti Che abbiamo detto Però In realtà Non sono arrivato A dire Se mi è piaciuto Ho solo detto Che Il film Inizialmente Ha una parte A livello di regia Gestita Estremamente bene Impressionante Che mi è piaciuta Perché Appunto Per chi non ha visto Il film Questa parte è un po' spoiler Quando Si vengono a conoscere Tutti i personaggi Pian piano Chiaramente Il gioco Molto carino È che si crede Che il personaggio Di Jessica Bale Sia Una brava donna Che Vive in una cittadina Dove spariscono bambini E a un certo punto Toccherà a lei Subire questa cosa Ho trovato molto carina La situazione Del Continuity twist Perché il film è Pieno di twist Cioè La storia cambia Continuamente E questo L'ho trovato veramente Una cosa piacevole Ma la parte iniziale In cui Comunque Il bambino Viene rapito E lei Lo rincorre In questo Come è stata girata Come Come la tensione sale E come è gestito Anche a livello di sonoro Vi assicuro Che io Ero Con le mani Attaccate ai braccioli Così Cioè Tesissimo E ho pensato Caspita Che tensione Questo film È bravo A A metterti Nel Nel binario Proprio giusto Del Proprio Non so come dire Ti 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 trasporta Quel punto È come salire Su una montagna russa Mamma 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 Poi chiaramente È scema Questa cosa Si ferma Inizia più E le cubrazioni Mentali Sulla storia E E verranno fuori Anche altre cose Il vero Il vero difetto Poi Che secondo me Rende questo film Non riuscito Al 100% È Il tema Della storia In sé Cioè La storia Risulta Un po' Poco Credibile Ok Cioè Poco credibile Nel senso che E anche qua È molto spoiler Quello che vi voglio dire Quindi se non avete visto I bambini di Cold Rock Spegnete Mettete in pausa Andate a vederlo E tornate a vedere Il resto della live Non per chi è in live Chi è in live Non se ne vada Si faccia spoilerare il film E ho trovato Poco credibile Il contesto Di Togliere Cioè Questa famiglia Questa donna Questo marito Che il marito Sembrava morto In realtà non è morto Di togliere i bambini Ai poveri Che poi Tanto poveri Non sono Sono Cioè Diciamo che il problema Che viene rappresentato In questa città Di Una città Di quelle Un po' come Detroit Detroit era una città Che si basava Sull'industria automobilistica Mi sembra Negli anni passati Quando chiusero Tutte le catene Le fabbriche Automobilistiche Tutti gli operai Rimasero senza lavoro Al che diventò Una delle città Più pericolose Dove la criminalità Di Van Poo E a quel punto A quel punto Bifolchi Però Non è Non è evidenziata Così tanto Questa cosa All'inizio del film Quindi Ti viene un po' Strano dire Ma che cazzo Togli i bambini A Un genitore Perché Alza il gomito O un altro Perché Non stiamo parlando Di Capito Di torture Stiamo parlando Dei classici problemi Che ci sono Nelle situazioni Socialmente difficili Che ci sono Anche qua a Milano Cioè E poi Appunto Esistono i servizi Sociali Per tutto questo Non ridere Che tu ci mi ha fatto Smadonnare Mi dispiace Ragazzi Se volete E poi vi aiuto In privato Per capire Quali sono i problemi Che vi Buttano fuori Eccetera E capiamo insieme Come sistemarli Come risolverli Quindi Una città senza Speranza Ok Ma Qua per esempio A Milano Ci sono tanti quartieri Che sono senza speranza Ma non è che uno Piglia E va a rapire i bambini Per mandarli da un ricco Come se è un ricco E anche qua C'è C'è un'interpretazione Sbagliata E moralista E brutta Come se un ricco Capito Potesse dare Quello che serve A un bambino In realtà Quello che manca Questi Questi situazioni qua In queste situazioni sociali Quello che manca È lo stato Cioè Capito È bello Ma guardate Che i bambini Col rock È veramente È stato un tema Molto interessante Per tirar fuori Tutta una serie Di argomentazioni Sul cinema Cazzo che caldo Adesso faccio No faccio così Apro un po' la finestra State lì State lì Non muovete Quello che è mancato In questa cittadina È lo stato Lo stato Che Dà Una struttura Ok Una struttura Come si dice Non mi piace Sta luce Vediamo questa Dà una struttura Per studiare Dà delle strutture Per il tempo libero Dei ragazzi Per farli crescere Per farli Tenerli Svegli col cervello Dargli Delle speranze Questo è quello che manca Non si pigliano i bambini E si buttano Si danno ai ricchi Così Come si è capito I ricchi Solo perché sono ricchi Allora sono buoni E sono bravi E sanno come si crescono i figli Questa è una falsità incredibile Quindi ho trovato La storia di per sé Proprio una stronzata Nella sua Diciamo Nel suo epilogo Nella sua spiegazione finale L'ho trovata una cagata Ok Detto ciò Tutto lo svolgimento È molto figo È molto figo Io avrei preferito scoprire Che alla fine Se li mangiavano Sti bambini E che erano Dei comunisti incalliti Magari Vedevi anche Bertinotti No Tipo Una versione di Bertinotti Non lo so Uno Stalin Zombie Che se ne mangia Insomma Educarli Bravo Thomas Educarli È l'unica cosa Che serviva Poi si possono anche Prendere due calci nel culo Dal padre alcolizzato Starà loro Se tu gli dai Gli strumenti Gestire quella parte lì Poi è chiaro Nelle situazioni più estreme Esistono i servizi sociali Quindi l'ho trovata È stata veramente una stronzata galattica Quindi chi Ha percepito Questa storia Come una storia Un pochino Non credibile Ha valutato L'intero film Come un film di merda Invece il film Ha delle cose Fantastiche dentro Proprio come la gestione Della tensione Come cresce Gli twist I twist sono fighissimi Come cambia il personaggio Di Jessica Bill È fighissimo Sono d'accordo con Sara Se tu prendi Jessica Bill Tu Hai Jessica Bill Cioè Se tu prendi Jessica Bill Non hai Meryl Streep Capito? Quindi Se tu prendi quello Quello hai E quindi Il personaggio è molto bello Perché all'inizio Sembra una cosa Poi sembra un'altra E poi sembra un'altra ancora È molto figo Ma Jessica Bill Ragazzi Ce l'avete vista nel film Non aprite quella porta No? Cioè È tutta culotette E labbra rifatte Detto ciò Tra le attrici Diciamo Bamboline Non era Non è Cioè Per essere un'attrice bambolina Ha fatto il suo Diciamo Se l'hai portata a casa Ma Io poi Continuo ad avere Un grandissimo fastidio Nel vedere le persone Rifatte In faccia Perché Gli attribuisco Degli elementi Di storia Che sono Scorporati Dalla storia Che sto guardando Cioè Se io ho una persona rifatta Con le labbra rifatte Tutto rifatto Tutta figa Che sembra una cazzo Di top model O Un altro genere Di Non la riesco a mettere Come Moglie giovane Del medico Bella quanto vuoi Ma ci sono tantissime Attrici Belle Che non hanno Quel tipo di bellezza Da Barbie Sono più Sono comunque Strafighe E più credibili Come Dottoresse O infermiere O persone che hanno Studiato medicina Per Per interpretare Quel ruolo Quindi Il problema Sta che Questo qua Gli hanno ficcato Jessica B Dentro O che ne so Pure se era fidanzato Con lei In quel periodo Non lo so Sa di fatto Che il film Non è Secondo me Ne Terribile Cioè Perché mi sembra Un'esagerazione E non è neanche Bellissimo Però se uno Mi vuol dire L'ho trovato Divertentissimo O mi è piaciuto Moltissimo Non posso Dirgli Una mazza O se uno Volesse dire L'ho trovato Noiosissimo Non mi è piaciuto Per niente Eh ma È tuo diritto Perché può Non interessarti Quell'argomento Non piacerti Quel tipo di storia Forse avresti preferito Come dico io Che i bambini Se li mangiasse O che diventasse Più una roba Di cannibalismo E di Non aprite quella porta Però non era quella La storia Che è stata raccontata Per me è un film Molto Molto dignitoso Eh Piacevole Da guardare Appunto Peccato Che sul finale Ti lascia Un po' Questa cosa Di Ti lascia un po' Incredulo Nei confronti Di quella Che è la spiegazione Che è una spiegazione Un po' Forzata Ecco Forse Però c'erano Dei buchi Di sceneggiatura Ma io Continuo a non vedere I buchi di sceneggiatura Perché non credo Che esistano I buchi di sceneggiatura Nel senso che Che non ho mai sentito Uno sceneggiatore Parlarne Sento solo Parlarne Persone che non sanno Scrivere una sceneggiatura Quindi Eh Ci sono dei film Per esempio Anche di Registi molto Importanti Come David Lynch Dove La storia È raccontata Proprio Come se fosse Intermittenza Cioè dove Dove Alcune cose Vengono dette Altre sono Solo suggerite Altre non sono Proprio Altre saltate Paro paro Eppure David Lynch È considerato Un genio Un maestro No lo so Che scherzavi Lo so Scusa Tom Che non l'ho Non l'ho ribadito Lo so perché Ne parliamo spesso Però io ho approfittato Per dire No è l'inizio Il momento che mi Gratto il naso Ogni cinque minuti Scusate Non capisco perché Non ho pippato Lo giuro Non pippo Non pippo Baudo Non pippo Non pippo più Si può dire No scherzo Non ho quasi mai Pippato Quasi mai Quasi mai No comunque Tra l'altro Ragazzi Io sono Molto orgoglioso Di me stesso Perché Non bevo Un goccio di alcol Da otto mesi Quasi Anzi A un anno Penso che farò Un evento E farò Non lo so Ci sto pensando Da un po' Un video Dove vi parlo Della mia esperienza Perché comunque Ragazzi Ho quasi 45 anni E ho deciso Comunque Anche se Magari poi Domani Esco E mi viene Un ictus Facendo le corna Anche se Non piace La scaramanzia Ho deciso Comunque Di Pensare Un po' La salute Che non ci ho mai Pensato Praticamente Da quando io Sono nato Non ho mai Pensato alla salute Mai neanche Per un secondo Quindi è ora Che io inizio A farlo Grande Tom Comunque Che lo so Che non Tu vai oltre Se no Andassi oltre Non ti piacerebbe Non saresti Uno dei pochi Che seguo Questo fantastico Canale Che è Me Comunque Forse Farò un video Tra quattro mesi Appunto Dove vi parlerò Della mia esperienza Dell'alcol Cioè Dove non bevo più Vabbè Non mi drogo Ho iniziato a mangiare Un sacco di patatine Pringles Anzi Pringles Se mi vuoi sponsorizzare Le mangio anche in live Oh cazzo Sta entrando un bel freddino Di quelli che piacciono a me Quindi ora ho Tutta la parte del corpo Sotto la felpa Sudata E tutte le parti esposte Ma nei piedi Che si stanno gelando Che bello Insomma ragazzi Io voglio fare anche Un esperimento Shrink Picco 5 e un quarto Dai andiamo avanti ancora Finchè non inizia l'inder Finchè non inizia l'inder Poi mi rilasso Mi rilasso Mi farà incazzare sicuramente Aspettate Che guardo un attimo Esattamente quando è Ok Allora Facciamo ancora Mezz'ora E entriamo dentro Anche al film Voglio vedere Qualche scena Un attimo Si scopro anche dov'è Su Sky Ok Allora Non pensiamo più A queste cazzate qua Del calcio Che tra l'altro Lo seguo sempre meno Però devo dire Che comunque mi piace Guardare la partita Mi rilassa Non faccio niente Non penso a niente Non penso alle recensioni Non penso a Di solito i problemi Non ci penso neanche Quando faccio altro Neanche quando devo pensare Ai problemi Ci penso Che cazzo Vi volevo dire Ah si 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 Andiamo un attimo A vedere il film Che tra l'altro Mi sembra Che trovate Su Prime Video Intanto che lo cerco Vi metto un po' Di musica Più forte Vediamo se c'è qua Non mi ricordo Sì è qua Lo metto un attimo Perché voglio vedere Qualche scena Sì Jessica Biel Veramente Adesso ho visto Uno screen Guarda Cioè Non è quel C'è anche questa parte Molto bella All'inizio Dove sembra Sempre spoiler Eh raga C'è questa parte All'inizio Dove sembra Non è horror Nel senso che Scusate Scusate Ho alzato Però non ho più Abbassato Non è horror Nel senso che Poi alla fine Tirando le somme È un thriller Però è horror Perché la situazione Del rapimento Dei bambini È esasperata Al punto tale Che diventa una cosa Intanto diventa una sorta Di organizzazione Di rapimento Di bambini E poi c'è il discorso Che fino a un certo punto C'è anche il sospetto Che ci siano dietro Delle forze Soprannaturali Quindi Non serve Secondo me Che lo sia Veramente Basta Che lo si possa Credere Durante il film Per essere un horror Vi faccio un esempio The Boy È un film Horror Che però Scusate Anche questo è uno spoiler The Boy Il primo Questo è uno spoiler Sul finale Tappatevi le orecchie È Finge di essere Un film soprannaturale Dove un pupazzo È indemoniato E si sposta da solo In realtà C'è una persona Che lo fa E quindi È una persona Cioè È quasi un thriller Alla fine Cioè Non è Non ci sono Elementi soprannaturali Non ci sono elementi Estremamente di violenza Quindi Seguendo questa piccola regola Che però Vale fino a un certo punto Non è un horror Allora No Beh Non è il problema Di partire con Aspettative Preconcetti È volontario Cioè È voluto Da Alagé Che per un certo Momento del film Si possa pensare Che dietro Chissà cosa c'è Ci sono delle forze Soprannaturali Tant'è che appunto Quando la bambina Gli dice Fammi portare via Da Sembra quasi Che Che questo essere Venga da un'altra dimensione Quindi è Evoluto Ah The Boy The Boy Si è uscito Bravo Vabbè Puoi togliere L'audio Così non Non esci Togli l'audio Ha fatto il twist Pure sul genere Del film Si 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 Infatti lo trovo Una cosa molto figa Cioè Cambiare proprio Direzione Poi capite Calcolare tutto All'inizio Nella sceneggiatura Insomma ragazzi Non è proprio Una banalità Quindi Tanto di cappello Poi appunto Non è una gara Cioè Vi è piaciuto di più Martyrs Io tra l'altro Trovo che Martyrs Non sia Il miglior film Di Pasquale Lagé Dal punto di vista Della regia Perché ho trovato La casa delle bambole Molto più complesso E difficile da mettere In scena Rispetto a Martyrs Quello che ha Di diverso Martyrs E qua Tocco l'ultimo argomento Ma prima chiudo la finestra Perché mi sto congelando Il culo Madonna ragazzi Quello che ha Martyrs Dalla sua E questo è l'ultimo argomento Poi dopo magari Cazzeggiamo Parliamo dei progetti futuri Finché c'è tempo Quello che ha Dalla sua Martyrs È che Ha dietro un tema Molto molto importante Molto importante Il tema più importante Della storia Del cinema horror Della storia Dell'umanità Del cinema in generale Della storia Delle storie Sto guardando velocemente Le scene di Bambini con rock Sì volendo Un giorno facciamo Delle analisi approfondite Dei film Se non abbiamo un cazzo da fare E qual è questo tema Così tanto importante Per noi E da lì capirete Come mai Martyrs È un film a cui Sono affezionati tutti E tutti lo amano E tutti lo hanno apprezzato Perché c'è L'unica Domanda L'unica domanda Che agli esseri umani Interessa Vediamo se qualcuno Di voi Vuole Facciamo come a scuola Qualcuno di voi Vuole provare A dare la risposta Signor Cialinla In fondo Vedo che sta giocando Col cellulare Va bene Ve lo dico io L'unica cosa Che alle persone Interessa Veramente La domanda più importante È Cosa C'è Dopo la morte Perché È una domanda Che si porta dietro Tutto Si porta dietro Il significato Stesso Significa Non è la pace Nel mondo È il significato Stesso Dell'esistenza Del perché Che è una roba Che anche la persona Più ignorante Del mondo Si è messa lì Ha guardato le stelle Un giorno Poteva avere L'abbiamo fatto tutti A 5 A 6 A 7 A 8 anni A 10 anni A 15 anni A 20 anni A 30 anni Ci sono stati dei momenti Che abbiamo guardato Una cosa Magari una cosa bellissima O magari Una cosa bruttissima E abbiamo pensato Che cosa cazzo C'è dopo E Che cosa c'è E dopo La risposta A quel punto Ci dà La spiegazione Ci dà In parte Non lo possiamo sapere Se è tutta la spiegazione O in parte La spiegazione Del perché esistiamo O se C'è un perché O se non c'è E quindi Martyrs Vincerà sempre Su tutti i film Di Pascal Perché Affascina talmente Tanto Questo argomento Che Nessuno Nessuno Batterà mai Martyrs Nessuno Vedrà mai I difetti Tecnici Di Martyrs Perché è troppo Bello Il tema È troppo Figo Ed è gestito Troppo bene Il finale Che non dico E quindi Questo è il motivo Per cui I bambini Con rock Che è una storia Sicuramente Con tematiche Meno intrigati Non vincerà mai Ma neanche La casa delle bambole Anche se è una storia Molto complessa Un thrillerone Molto figo Con intrecci vari A me è piaciuto Un sacco Poi Non nego Che Martyrs Mi abbia affascinato Anche a me Anche se io Su queste cose Sono un po' Un cinico Nel senso che Non Mi piace Mi piace Scoprire Il perché Alle persone Piacciono Certi temi Mi piace scoprire Perché Qualcosa le colpisce Di più Però di per sé Io non subisco Tanto il fascino Perché Sono un po' Un cinico Grande Thomas Tanto adesso Chiudo anch'io Sono un po' Un cinico Grazie per essere Stato con me Spero che comunque Di avervi dato Un po' L'idea Di quello che è Poi il risultato Della visione Di bambini Di cold rock Perché È un film Che comunque È Veramente strano Come se Come di vita Il pubblico Io Di per sé L'ho trovato Una visione Gradevole Ma appunto Con Una Che ho apprezzato Molto dal punto di vista Della regia Del montaggio Tutti gli aspetti Tecnici Che lo hanno reso Molto dinamico Un po' Meno appunto La recitazione Ha ragione Ha ragione Sara A dire che Comunque Certi Attori Poi Possono essere Le scelte Molto pericolose Come Jessica Bill Però Non ho apprezzato Tanto poi L'epilogo Di questa storia Che l'ho trovata Un pochino Tirata per i capelli Difficile da credere Un po' Ingiustificato Piuttosto Guarda Mi facevi credere Che Questi due Erano Me li facevi Un po' Più folli Però comunque Non mi è piaciuto Quella parte lì Mentre tutto il racconto Mi è piaciuto Quindi Di per sé È un film Che io trovo Più che sufficiente Un buon film E basta Questa è la mia opinione Che cazzo stavo dicendo prima Non so Se qualcuno mi vuole aiutare Perché poi Per salutare Thomas E ridare Alla mia Diciamo Il mio riepilogo Di Di questo Di quest'opera Ah sì Stavo dicendo Per dare Il mio giudizio Diciamo in sintesi Mi sono un po' perso Io al discorso Che stavo facendo Il discorso Che stavo facendo È che comunque Io sono un po' Cinico su questa cosa E addirittura Sono convinto Ma sono convinzioni Basate sul niente Che anche la morte Di per sé Potrebbe non essere Una risposta Nel senso Che chi ti dice Che Che morire già Almeno Tu dici Almeno muoio Ma almeno so Che cosa c'è Se non c'è niente Se c'è qualcosa Potrebbe anche Non esserci Nessuna risposta In questo E quindi È un po' deprimente Però Capisco che sia Più affascinante Pensare Che dall'altra parte Ci sono altre persone Come se ci fosse Un'altra parte E questa non fosse L'unica Non so se Mi sono spiegato Questo è un po' Tutto Per quanto riguarda I bambini di Cold Rock Direi che questa live Posso metterci L'immagine Proprio del film Perché abbiamo parlato Praticamente solo di questo E di Lager E di Martyrs E del tema della morte Cosa c'è dopo la morte Vi ringrazio tutti Per essere stati qua Con me Sono Molto contento Veramente Anche perché Riuscire a fare una live Su dei Su dei temi Come questi Non è sempre facile In questo caso Ci tenevo Perché sono venuti fuori Appunto delle cose Anche grazie a voi Grazie anche a chi commenta Ecco Un invito che posso fare A tutti quelli che commentano Sotto i miei post Non siete obbligati A scrivere Qualcuna recensione Ma se Volete condividere un pensiero Ma scrivete qualcosina In più Perché dire che un film È brutto Che un film è bello Non lo so Non serve a un cazzo Fondamentalmente Anche perché a me Non me ne frega un cazzo Di sapere Se secondo voi È bello o brutto A me Mi interessa molto di più Sapere Il perché magari Quello già Potrebbe anche Non fregarmi un cazzo Neanche di quello Ma State sicuri Che mi interessa di più Sapere Il perché In termini proprio di Non perché siete voi Ma in termini proprio di Comportamenti umani Ti ho seguito In silenzio Perché è l'unico film Di Pasquale Giacchi Che mi manca da vedere No che grande Grazie Dani Dani Grande Sono contento Perché l'ho spoilerato Non spoilerò più Stai tranquillo Ascoltami Sono contento Sono contento Perché l'ho spoilerato Come un matto E quindi Hai fatto bene Perché questo film Se non lo Se non sai le cose Te lo rovini Cioè se sai le cose Te lo rovini Completamente Non ha neanche Sesso vederlo Non spoilerò più nulla Quindi stai pure Ad ascoltare Ti ringrazio Per aver ascoltato Col microfono Spent Cioè Avvi visto Praticamente Avermi fatto compagnia Diciamo Più supporto Grazie Mi fa piacere È un bel gesto Anche se purtroppo Appunto Non hai potuto partecipare Per non rovinarti il film Sono contento Fai così Guardalo È su Prime Guardalo E poi Se hai voglia Vieni a vedere Questa live E poi Farmi sapere Come vuoi Scrivendo un commento Sul gruppo Anche Cosa ne pensi Anche di quello Che ho detto io Oppure semplicemente In privato Se ti va Ti ringrazio Ringrazio Tom Non so se è ancora qua Ringrazio Sara Ringrazio Ficoli Zombie E anche quelli Che non hanno scritto Che hanno guardato Adesso Metto una musica Un po' più alta E penso Un paio di cose Che vi voglio dire Se volete restare qua Tranquilli Tranquilli Senza Che debba parlare A manetta Così vi dico Un paio di cose Allora Sto ricaricando Tutti i video Dal Fanta Festival In poi Alcuni sì Alcuni no Su Facebook Perché mi sono reso conto Che alla fine Sono scelte Che io Continuo a cambiare Faccio delle prove E poi cambio Mi sono reso conto Alla fine Che molti Magari Non si vedono Il video Perché non sta Su Facebook Ma sta su YouTube Le live Continueranno Ad essere qua Su Twitch Perché c'è Una netta Come si dice È una piattaforma Che favorisce Molto Le persone Ho selezionato Solo i punti Che vi parlavi Dalla trama Grande Grande Mi fa piacere Spero di non Averti rovinato Il film Questa piattaforma Twitch Diciamo Favorisce molto Di più Le persone Che seguono Sempre Quindi Io sto notando Chi vuole stare Con me In live Parlare di film Appunto Thomas e Sara Si sono visti apposta I bambini di Con Rock Perché sapevano Che ne avrei parlato Quindi fa piacere tantissimo A me Ci tiene più uniti È una piattaforma Che per ora Si sta rivelando Utile Da questo punto di vista Ci sono anche Dei sistemi Per premiare Chi c'è di più Ci sono i punti Appunto I litri di sangue Più state Più avete I litri di sangue Anzi Magari Mi riprometto Di creare Delle nuove ricompense Così potrete usare I litri di sangue Per avere Delle ricompense Che sono appunto Suggerimenti sui film Personalizzati Cose personalizzate Quindi lo farò Perché Twitch Veramente si sta rivelando Una grandissima piattaforma A proposito di Twitch Approfitto per dirvi Bevo un po' d'acqua Scusate Che Che Riprenderò Con i gameplay Dei videogiochi Questo è garantito Riprenderò Non è garantito Ma voglio farlo Il gameplay Di Resident Evil 2 Perché l'ho iniziato Andava bene Ci piaceva E' su Playstation 4 Ho dei problemi Con la Playstation 4 Perché fa un rumore Incredibile La ventola Ce lo facciamo Andare bene Lo stesso So che voi Non siete schiziosi Come me Sul discorso Della qualità audio Quindi Riprenderò Resident Evil 2 E sto lavorando Su un problema Che ho Che è la cinestasi Si chiama No non è la cinestasi È la nausea Non Come è che Nausea Cine Tosi Cine Tosi La cinetosi E' quel problema Che si crea Quando si va in auto Quando si guarda Quando si va in barca E quando si guardano I videogiochi Che hanno La visuale In soggettiva Dove non ci sono Punti di riferimento Ci sono un po' Di problematiche Alcune persone Stanno malissimo E io sono una di quelle Quindi Con Resident Evil 7 Che avevo Tra l'altro Preso Facendo uno scambio Con un mio amico Perché gli ho dato un film E lui mi ha dato Il gioco Non sono riuscito A fare mezza partita Però E' un gioco Molto pauroso Dove veramente Ci saremmo potuti divertire Ora Il 7 maggio Che è il mio compleanno Tra l'altro Quindi se volete Farmi un bel regalo Vi lascio L'indirizzo Scherzo Esce Resident Evil Village Che è il nuovo Resident Evil Su piattaforme next gen Quindi Xbox Series X Series S PlayStation 5 Eccetera Beh Uscirà anche sulle console Più Di generazione precedente Allora Se riuscirò ad avere Una copia Per provarlo Non dico che farò Tutto il gameplay Proveremo Insomma Vi giuro che proveremo Ho già preso Precauzioni Per Perché ora Mi sto studiando Come si fa a giocare Per evitare Che la cinetosi Arrivi Quindi la nausea Arrivi E poi Mi prenderò anche Delle pastiglie Per i postumi O da prendere prima Quindi cercherò Di portare a termine Questa missione Se riuscirò a risolvere In parte Questo problema Della cinetosi Della nausea Giocherò a Resident Evil Village Su Il canale Twitch Negli orari Più assurdi Perché per finire Il gioco Dovremmo andare avanti Di notte Appena ho la casa Libra Perché è un gioco Molto violento Avendo una famiglia Un bambino piccolo Non posso Giocarci Sempre E lavorando Anche Scusate Perché Ovviamente Non sono nato ricco E quindi Dovrò Anche lavorare Dovrò Insomma Per fortuna Lavoro E sono contento Anche Perché Ogni tanto Sento le parolacce Che arrivano Dalle canzoni Dei mani pulite E mi Massimo Ormai Chi se ne frega Quindi Questa è un'altra Novità Riprendo con i gameplay Perché mi va Perché durante i gameplay Parlavamo tantissimo Di tutto Di cinema Di film Di horror Di paura Di vita Di morte I miracoli Quindi Gameplay a manetta E questa Questa è una cosa Poi appunto Ripubblicherò Un po' di robe Su facebook E vi faccio L'aggiornamento Su un altro Format Che ho Iniziato A pubblicare Grazie a Roberto Donofrio Che è un Collaboratore Quindi non aprite Questo blog Più anziano Di me Pensate Segue L'horror Da Un'eternità Ragazzi Noi possiamo Solo Guardarlo Con ammirazione Un vero appassionato Si è Affezionato Anche al mio progetto E questo mi onora Perché significa Che Insomma Per piacere A un grande Fan dell'horror Come lui Vuol dire Che qualcosina Di buono Lo so fare Mi fa piacere Portiamo Dei filmati Che lui ha fatto Nell'arco Di questi Vent'anni Anche di più Come Tra virgolette Corrispondente Non tra virgolette Come corrispondente Di riviste Non so se le conoscete Come Rogo e Morgue Fangoria Non so se Qualcuno conosce Fangoria Cioè Corrispondente Italiano Di Fangoria Per me È già Un Comunque Tanto Per Insomma Come Come attributo Insomma Quindi È una persona Molto esperta E ha questi filmati Che però Ecco Tanto bravo Tanto esperto Ma di video Non ne capisce una mazza E ha fatto Dei video Raffazzonati Che però Hanno un grande valore Io li sto Aggiustando Mettendo a posto Dove sono rovinati Dove ballano Dove l'audio Sto cercando Sistemarli Insieme Appunto Grazie ai suoi video Le sue interviste Stiamo facendo Una serie Che si chiama Horror Files La trovate Sul canale YouTube Abbiamo già L'intervista Di Antonio Tentori Daniele Misischi E Manetti Bros Sergio Martino Adesso non vorrei Dimenticarmi qualcuno E ora vi dico State qua Rullo di Tamburi Ora vi dico Qual è La prossima recensione La prossima recensione Che Federico Zampaglione Regista di Shed Insomma Ci sono questi Quattro video Alcuni Di un quarto d'ora E alcuni Di addirittura Un'ora Quindi Sono delle Scorpacciate Incredibili Ragazzi Vabbè Cagare Sto Sto cazzo Di pubblicità Ecco Quello che vi voglio dire Che il prossimo Horror File Che uscirà domani Alle 6 Più o meno Ha un personaggio Molto importante Per il cinema Horror E il suo nome È Robert Englund Quindi Ragazzi Già i nomi Che vi ho detto prima Stiamo parlando Di registi Che hanno fatto cose Alcuni meravigliose Altri Buonissime Domani esce L'Horror File Con Robert Englund Un video Inedito Esclusivo Recuperato Infatti la serie Si chiama Horror File Fan Footage Interview L'ho chiamato io Mi piace inventarmi I nomi delle cose Fan Footage Perché sono proprio Video di recupero File Che erano Imboscati Nell'hard disk Di questa persona Quindi Ne usciranno Tanti altri Del livello Anche di Robert Englund Quindi Registi italiani Registi Attori Attori Non vi dico altro Perché oggi Vi ho già svelato Questa cosa qua Quindi Continuate A seguire Me E vi invito Vi invito Perché è veramente I social Fanno molto filtro Su questo Vi invito Assolutamente A mettere le notifiche Ovunque possiate Quindi Sul canale youtube Mettere le notifiche Su facebook La pagina facebook Sul gruppo Su me Tanto Io non pubblico Mai cose Che non c'entrano Cioè Quasi mai Pubblico cose Che non c'entrano Un cazzo Con l'horror Pubblico sempre Roba che c'entrano Con l'horror Qualche volta Di vago Per esempio Adesso sto pubblicando Ma Stiamo parlando sempre Di horror Sto pubblicando Qualche cazzata Sul mio profilo personale Perché sono uscite le skin Horror Diciamo Tra virgolette Su fortnite Che dove gioco Con mio figlio E mi sono preso Quella di Predator E di Terminator Il T800 E se continueranno A far uscire skin Del cinema Di genere Io non mi toglierò Mai più da fortnite Perché mi piace troppo Ragazzi Come collezionare Action figure Quindi Comunque Tutto questo Per dire Che comunque Se mi seguite Ovunque Mettete notifiche Non avrete mai Uno spam inutile Di cazzate Insomma Tiro fuori sempre cose Che riguardano il cinema Io credo che i social Dovrebbero essere usati così Per una condivisione Di film Appunto Senza dire Bello brutto Entrare un pochino Più nel vivo Confrontarci Crescere Nella valutazione Dei film Nella scoperta Dei film Io sto imparando Tanto Ringrazio Tantissimo Quelli del gruppo Telegram Che A volte Veramente Cioè Sono Sul pezzo Più di Chiunque altro Cioè Ma anche io Comunque a volte Cioè Mi iscrivo A di feed Per avere subito Le notizie Oppure mi arrivano Dagli uffici stampa Le condivido subito Quindi sapete Essere Essere Sul gruppo Telegram E non aprite questo blog Significa anche avere Le notizie Prima degli altri O comunque Prima di una grossa Fetta di persone Sta crescendo Piano piano Però Questo è Quindi ragazzi Continuate a seguirmi Che cazzo vi devo dire Iscrivetevi se volete Salutarmi Prima che chiuda la live E Rimetto un attimo La musica E qua Questa era bella La rimetto Guardatevi L'ultimo video Che ho pubblicato Su Youtube Tanto lo pubblico Anche su Facebook I nuovi Spasmo video Anzi Però magari domani Lo pubblico Ho fatto un unboxino Poi dopo Li vedremo Insieme E basta Sono stato contento Di questa live Stanco ma contento Perché poi Vi garantisco Che parlare Per così tanto È dura Il cervello Poi va Cioè Proprio Fai fatica Sarà che io Sono vecchio Fai fatica Va bene ragazzi Vi faccio salutare Dal mio zombie Ciao Ci vediamo Coglione Va bene ragazzi Dai Basta cazzate Grazie per essere stati con me Mi devo arrivare I titoli di Tetro Ah sì sì Ragazzi Allora ecco Aggiungo questa cosa Aggiungo questa cosa Sto anche recensendo Sei film della Tetro Sei film E me ne mancano tre Me ne mancano tre Da recensine Due da vedere Lì Finora di recensire E poi andremo avanti Perché sono veramente Tanti i film Della Tetro Sono fighi Adesso ce n'è uno Che si chiama Vorgore Molto figo Intrigante Vedo che già Altri Lo stanno recensendo Però io non ho fretta Insomma Ho questo impegno Dei film che mi sono stati mandati Riguardo volentieri E Vorgore Lo guarderò Quando sarà Il momento Non è che posso Anche perché Non è che posso Fare sei film Della Tetro Di seguito Perché diventerebbe Un po' monotono Il canale Quindi cerco di alternare Con le uscite Midnight Le uscite Eagle Picture Ho fatto la recensione Quindi Parasite Black and White E anche Spasmo Video Tetro Video Insomma Ce n'è di roba Un po' di roba Anche di OTV Anche OTV È un po' che non ne parlo Devo rimettermi Però appunto Grande film con gli zombie Cazzo Io con tutte le volte Che penso a te Dico ma devo fare una live con te Adesso inizio a programmare Un po' di live Con gli ospiti Voglio fare una live Con film con gli zombie A me piace Paolo Perché Io seguo poca gente Paolo le guardo Le dirette Quanto tempo Perché Mi piace il suo modo Secondo me Un po' anche lui Mi segue Perché siamo simili Perché anche a me piace Come lui fa le cose Cioè È scazzato Cioè non è scazzato È tipo Che cazzo Me ne frega me E quindi va bene Così Bravo Ma perché noi Noi di un'altra Generazione Siamo un po' così Cioè Ne abbiamo viste Non c'è questa schiavitù Anche del like No Quindi Va bene così Va bene così Grande Comunque Paolo Paolo per esempio Un grande collezionista Tra l'altro Pubblica anche dei film Magari E appunto Facciamo una Facciamo una Una liveettina Io e te Dove ti promuovi Anche i tuoi film Anche così Quattro persone in croce Lo sapranno No dai Comunque ce n'è di gente Che guarda I video anche post Io mi stupisco Che ci sono persone Che si sparano Proprio la live Indifferita Proprio Tutta anche Grandi Vi apprezzo molto Perché poi appunto Io sono qua per dire cose A parte questa parte qua Che è una parte Che potete tranquillamente saltare Comunque ciao Paolo Ciao Dani Ciao tutti gli altri Che Che se ci sono ancora Sara Thomas Vediamo chi Chi è interagito oggi Dani Sì sì Grande Grande Grazie mille E fatemi sapere Cosa pensate Dei videogame Di Resident Evil Village Degli horror files Tutte queste attività qua Che però Ragazzi veramente Sono molto contento Perché sto trovando Una quadra Per fare tutto Cioè Fare tutto con calma Con i miei tempi Nel modo in cui voglio io Un grande abbraccio a tutti Grazie mille Condividete Il più possibile Le mie cose Se volete aiutarmi Potete anche diventare Patrono Abbonatevi al canale Qua su Su Twitch Comprime È gratuito È gratuito Potete fare l'abbonamento Anche prolungato Mi sembra Non so Comunque Riabbonatevi continuamente Perché poi si Si stacca E se volete Diventate Patreon E se volete Vogliatemi bene E il 7 maggio Fatemi tutti gli auguri Che ne dite Ciao A presto Grazie E comunque Pascal J. Spak È un grandissimo Regista Secondo me A me piace Speriamo che gli arrivi Un'altra storia potente Come Martyrs Che ne vedremo delle belle Ma comunque anche La casa dei Bamboli Secondo me è una storia potente Potente proprio per come È girata Vabbè Basta Basta Alla prossima Ciao